Dopo le notizie di esecuzioni di civili nelle città ucraine controllate dalla Russia, la pressione sull'Unione Europea per adottare un quinto pacchetto di sanzioni cresce. Si sta discutendo dell'embargo di gas, petrolio e carbone e anche della chiusura di porti a navi e merci russe. Intanto, sotto il cielo europeo, questo weekend si sono svolte due elezioni importanti, in Ungaria ha vinto Orban e in Serbia Vucic. Entrambi a capo di coalizioni di destra, entrambi poco schierati contro la federazione russa. Il ruolo dell'Europa sta cambiando, oggi ne parliamo con Antonio Villafranca, direttore della ricerca dell'ISPI. Ciao Antonio. Ciao Antonio, ciao, buongiorno. Allora Antonio, oggi dobbiamo per forza aprire con quello che abbiamo visto questo weekend, abbiamo assistito tutti alle atrocità di cui è stato capace l'esercito russo nei soborghi di Kiev. Punire con le sanzioni delle esecuzioni pubbliche può sembrare un po' insufficiente, soprattutto fatto a posteriori, quando ormai ci sono state, ma è una delle modalità di cui si sta discutendo in queste ore. La Lituania ha già bloccato l'importazione di gas russo, ma volevamo capire gli altri paesi cosa stanno facendo, soprattutto che cosa provocherebbe un'interruzione del gas russo. Ma guarda, se noi davvero vogliamo far male a Putin con le sanzioni è ovvio che dobbiamo toccare l'energia, gas, petrolio, carbone. Certo, la Lituania è un paese relativamente piccolo, può permettersi di trovare quelle quantità di gas ad esempio necessarie per il proprio fabbisogno, a costi più alti. Quando si tratta di Italia e Germania la situazione è ben diversa. Deve essere chiaro a tutti che il gas GNL, ad esempio il gas naturale liquefatto, che potrebbe sostituire quello che ci arriva tramite tubo dalla Russia, costa di più. Quindi questo significa che un'interruzione repentina di tutto il gas che importiamo tramite tubo dalla Russia ci costerebbe decisamente molto. Stiamo parlando di centinaia di miliardi di euro, non stiamo parlando appunto di quanto ci costa importare il gas dalla Russia. Quindi dobbiamo veramente fare i conti con la nostra volontà di poter arrivare così a tanto. Io prima di farti una domanda voglio condividere una very unpopular opinion e chiedervi anche una vostra opinion perché il dibattito italiano di questi giorni si è concentrato molto su questa strage. La mia unpopular opinion è che dobbiamo prendere tutto con le pinze perché è molto possibile che lì ci sia stata una strage ma dimostrare la colpevolezza dei russi non è cosa immediata. E la comunità internazionale negli anni passati, nei decenni passati ha sbagliato molto spesso nel affrettarsi a dare una responsabilità, anche quando quella sembrava chiara. Non sto dicendo che noi dobbiamo girarci dall'altra parte come abbiamo fatto in Bosnia, non sto dicendo però neanche che dobbiamo affrettarci nel dire sì, sicuramente qui sono stati i russi. Avevamo bisogno della strage che abbiamo visto in questi giorni per capire che i russi stanno facendo cose atroci in Ucraina? Assolutamente no. Avevamo bisogno di questa strage per capire che l'Ucraina è stata invasa dai russi? Assolutamente no. Avevamo bisogno di questa strage per capire di chi è la responsabilità? Assolutamente no. Dobbiamo affrettarci a dire che questo è stato fatto da parte dei russi e non è una fabbricazione. Io non credo che sia una fabbricazione, ma non credo neanche che dobbiamo affrettarci. Ecco, scusate questa piccola parentesi, volevo chiedere, so che non è popolare e non voglio risultare filo russo, filo putiniano. Non lo sono assolutamente, ma attenzione perché in passato abbiamo fatto tantissimi sbagli. Chiedo a voi anche la vostra opinione perché appunto è un pensiero libero. Ma se posso, Francesco, io credo che tu l'abbia posto nel modo più corretto. A prescindere dal fatto che sia vero o non sia vero, anch'io tendo a credere che lo sia. La questione è, c'è un'invasione, sono uccisi dei civili. Questo è senza ombra di dubbio sta accadendo. Stanno morendo tantissime persone. Il caso specifico dell'ospedale o quest'ultimo, certo si può indagare, si può cercare da un punto di vista giornalistico di comprenderlo. Ma rimane il fatto che c'è l'aggressione a un paese che sta colpendo duramente i civili. E questo non c'è bisogno di andare a considerare il singolo aspetto. Perché? Perché quando si fa la guerra e si entra nelle città è quasi inevitabile che ci siano delle vittime civili. Si combatte strada per strada, si combatte palazzo per palazzo. E quindi quando prima si assedia e poi via via si entra nelle città sempre succede che i civili ovviamente vengono uccisi. Quindi questo è un dato di fatto a prescindere dall'episodico. Penso, sono d'accordo con voi nel dire che non c'era bisogno di questo per capire quello che sta accadendo. Anche perché Buccia, come in tanti hanno detto, è niente rispetto a quello che vedremo a Mariupol, ad esempio. Quando verrà liberata si spera che venga liberata. Quindi non è tanto questo episodio. Allo stesso tempo però io credo che sia importante vedere queste immagini per capire di che cosa stiamo parlando. Perché purtroppo per quanto in queste settimane, ormai in questi mesi siamo ossessionati dalla guerra in Ucraina, ne parliamo continuamente, ne vediamo immagini continuamente. Ci sono dei particolari che a volte scuotono di più l'opinione pubblica. Non che, appunto, come dicevo all'inizio, questo sia l'unico motivo per cui dovremmo mettere in discussione le nostre importazioni di gas russo. Però sicuramente è un aspetto in più, quindi indipendentemente dal fatto che verrà dimostrato, se nel caso verrà dimostrato appunto che sono state le truppe russe, penso che questa sia la parte della storia da cui dobbiamo stare e credere in questa tragedia. Assolutamente. È il fatto che politicamente mi sembra molto pretestuoso in questi giorni dire allora dobbiamo mettere sanzioni anche sull'energia. Ma ragazzi, ma la guerra è terribile, lo sapevamo. E lo sappiamo da un mese e mezzo. Non avevamo bisogno di questo. Lì c'è bisogno di un coraggio politico che va oltre quella strage. Ne vedremo tantissime altre, come tu dicevi. Tornando alle domande, Antonio. La mia domanda è più o meno inerente a questo. Noi anche in Italia stiamo assistendo a un dibattito abbastanza vivace sull'aumento delle spese militari. Non siamo l'unico paese che ha al suo interno un dibattito di questo genere. Secondo te è una posizione comprensibile e condivisibile quella di chi dice io sono d'accordo con l'aumento delle spese militari, ma solo se contribuiscono a creare un esercito comune. Se sono invece solo spese nazionali, ho qualche dubbio. Non sono d'accordo. Le due cose vanno in parallelo. Certamente sarebbe bene che parte di queste spese contribuissero a creare un esercito europeo. Però dove siamo sull'esercito europeo? Stiamo parlando di creare un esercito di 5.000 soldati. Ricordo che Putin è entrato in Ucraina con un esercito di circa 200.000 soldati. È evidente che il rafforzamento degli eserciti nazionali è fondamentale. Ma permettimi su questo anche di fare un piccolissimo ragionamento. Quante volte ci lamentiamo del fatto che l'Italia non ha peso a livello internazionale? Che vorremmo che l'Italia... Dove è l'Italia nei grandi tavoli della negoziazione? Allora, quando diciamo questo, perché vogliamo tutti la pace, vogliamo che l'Italia sia nei tavoli che contano per arrivare alla pace, dobbiamo essere consci che per essere in questi tavoli devi essere credibile. E per essere credibile devi avere anche un esercito forte. Quando parliamo di queste spese militari per arrivare al 2% del PIL, ci dimentichiamo che un impegno che ci siamo assunti dal 2006, che queste spese che andremmo a fare sarebbero in buona parte per pagare stipendi, circa il 40%, per il 20-30% per andare a fare manutenzione delle armi e dell'esercito che abbiamo già oggi, soltanto la restante parte per nuove armi. E ultima cosa, vogliamo essere credibili noi, essere più forti anche in Europa? Bene, c'è l'altro paese a guida socialdemocratica, la Germania, che ha deciso di investire 100 miliardi di euro in spese militari. E noi non possiamo, ecco, far finta che non ci riguardi. Mi sembra un bel punto, anche perché noi ascoltiamo spesso una lamentazio in Italia, dicendo, ah, noi non contiamo nulla, ah, sui tavoli internazionali non siamo pesanti, ah, l'italietta. Certo, Antonio dice, è un'opinione condivisibile o meno, però dice, se vogliamo contare, ragazzi, è anche una questione di numeri, è anche una questione di soldi, è anche una questione di investimenti, anche nel campo della difesa. Non conti solo perché dici di voler contare, ma perché hai la credibilità di poter essere seduto in quei tavoli. Ecco, a proposito di numeri e di contare, questo weekend abbiamo visto anche due elezioni importanti, in una delle quali Orban ha vinto nuovamente, ha vinto per la quarta volta consecutiva su cinque volte che è stato eletto. Ha colpito tutti la frase che ha detto, no? Una vittoria così imponente, che la vedono dalla luna e sono certo riescano a vederla anche da Bruxelles. Che cosa ci dice questa frase, che cosa ci dice questa vittoria? Io spero che da Bruxelles vedano benissimo e che diano seguito senza mettersi gli occhiali, perché è talmente macroscopico quello che sta succedendo in Ungheria che non c'è bisogno neanche di mettersi bene degli occhiali. La Corte di Giustizia Europea ha sancito che la Commissione ha la possibilità di sospendere i fondi che vanno all'Ungheria. Ricordiamo che al momento sono sospesi i fondi che dovrebbe ricevere l'Ungheria nell'ambito del recovery fund. Lo può fare anche sui soldi che normalmente ci vanno, i fondi strutturali, i fondi di coesione. Spero che la Commissione, con lo senso occhiali, agisca subito per sospendere quei fondi che vanno a finanziare il partito e gli amici di Orban, anche perché questi fondi europei vengono utilizzati per consolidare il potere di Orban. È una deriva chiaramente autoritaria presente in questo paese. Che è anche un aspetto interessante proprio relativo all'Ucraina. Cioè, qual è la posizione di Orban rispetto a questa guerra? La posizione di Orban è chiarissima. Lui ha apertamente criticato Zelensky. è una posizione di appoggio della Russia. Non si è spinto fino a negare, a porre il proprio veto alle sanzioni. Cosa che potrebbe fare, essendo l'unanimità richiesta su questo tema, è assolutamente contrario a porre delle sanzioni che riguardano l'energia perché sa benissimo che quelle sanzioni farebbero veramente e subito male a Putin. Antonio, Orban vince. In Francia Macron lancia allarme dicendo che rischia di perdere perché Le Pen negli ultime settimane, soprattutto nell'ultima, è cresciuto abbastanza e lui dopo settimane di crescita nei sondaggi invece è abbastanza stagnante. La domanda non è tanto sulle elezioni francesi perché ci arriveremo e ne parleremo. Insomma, abbiamo tra pochi giorni il primo turno e poi fra qualche settimana il secondo. Vediamo come andrà. Però la domanda è sempre su questa Europa politica che vuole essere geopolitica. Come fa a esserlo se a ogni elezione rischia di perdere i pezzi, se a ogni elezione si rimette in discussione tutto? È una domanda, lo so, che gira da un po' di tempo, ma ogni volta che ci sono dei cicli di elezioni che rimettano in discussione come questo, sembrava possibile fare il ribaltone con Orban, invece il ribaltone non è arrivato. Sembra adesso che Macron possa perdere. Io al momento, e qua adesso, registriamo bene questo punto, io non credo che Macron perderà. Eccola. Però ecco, siamo di nuovo a questo punto. Cioè continuiamo a sì, diciamo, facciamo l'esercito comune, siamo geopolitici, ma neanche con i paesi riusciamo. Cioè noi in Italia abbiamo un governo che dura pochissimo tempo, un anno, un anno e mezzo, e proviamo a essere geopolitici con la nostra postura piccola. In Europa dobbiamo metterne ad accordo 27 con le loro fatiche come le abbiamo noi, magari un po' meno delle nostre, si spera. Antonio, come si va avanti? Ma guarda, è il prezzo da pagare alla democrazia. Tu adesso hai ricordato che i governi appunto durano, soprattutto in Italia, un anno e mezzo. In realtà negli anni 70-80 duravano anche qualche mese. Ma non rimpiaggiamo quei tempi? Non li rimpiaggiamo, però c'è una differenza enorme. C'era una sostanziale continuità politica dell'Italia. Poteva esserci l'Andreotti quarto, quinto, qualsiasi cosa, ma si manteneva la stessa linea politica. Quando tu ti riferisci a Macron, il cambio eventuale da Macron a Le Pen vorrebbe dire un cambio sostanziale della linea politica della Francia, l'europeismo, l'atlantismo, i rapporti con la Russia. E questa è la vera questione che abbiamo, non tanto la durata del governo, di uno dei governi dell'Unione Europea, insomma durano quanto devono durare in democrazia e sappiamo insomma che non è facile. Il problema è appunto la continuità politica che non viene più garantita come era nel passato perché ci sono delle forze populiste di estrema destra o di estrema sinistra. In Francia è comunque sempre molto forte anche l'estrema sinistra di Mélenchon che hanno una visione completamente diversa dell'Europa e del mondo. E allora quello è il vero problema. C'è la presenza appunto di tutte queste frange che frange non sono più. Questa polarizzazione della politica che c'è in tutta Europa e che mette a repentaglio quella che è l'Europa così come noi la conosciamo. Non c'è dubbio che una vittoria della Le Pen in Francia darebbe un colpo forte e negativo alle prospettive di un rafforzamento dell'Unione Europea di cose di cui noi abbiamo bisogno anche perché guardiamo sempre il nostro ombelico, l'ombelico europeo ma dimentichiamo che giusto tra qualche anno si rivoterà negli Stati Uniti e cosa succede se viene rieletto Trump? Sì, sì, sì. Beh, direi che abbiamo fatto una puntata un po' a tutto campo sull'attualità e sull'Europa e io Silvia sono molto contento perché abbiamo trovato un po' di spunti utili per capire quello che sta succedendo se non hai altro io ci darei appuntamento alla settimana prossima. Sì, in realtà come forse non ti ricordi ci risentiamo tra qualche giorno perché ormai abbiamo questo doppio appuntamento lo ricordo a tutti doppio appuntamento una puntata di analisi e una puntata più di recap della settimana quindi in realtà ci risentiamo tra qualche giorno sempre con te Francesco se hai voglia di partecipare Aspetta, me lo segni in agenda Esatto A tra qualche giorno, grazie Grazie a voi Ciao Ciao